Sapori ed aromi d'autunno, la manifestazione con le tre T, territorio, tipicità, tradizioni. E quest'anno, ahimè purtroppo, ne hanno dovuto aggiungere un'altra, terremoto, ed in particolare la zona di Arquata del Tronto e i suoi abitanti, da subito aiutati dai volontari fanesi, stabilendo un ponte di aiuti che è tuttora in essere. L'aspetto solidale è nel DNA di questa manifestazione che nacque appunto tanti anni fa per aiutare chi era in forte difficoltà e non si è mai perso, a maggior ragione in presenza di eventi così drammatici come un terremoto. E dato che di territorio si parla e di prodotti marchigiani, lo sguardo a loro è venuto spontaneo. Abbiamo pensato di realizzare una sorta di gemellaggio con Arquata, Arquata del Tronto, anzi Petrare, che è il paese, la frazione di Arquata dove i nostri volontari sono stati operativi, ecco di realizzare questo gemellaggio per aiutare queste popolazioni con una raccolta fondi e per promuovere anche i loro prodotti. Tanto è vero che in questa manifestazione, in questa ventinovesima edizione di Sopore Romeo d'Otunno saranno presenti i volontari della Proloco di Arquata con le loro castagne che le somministreranno nelle due domeniche e ci sarà poi quella sorta di promozione, purtroppo sono soltanto in due i produttori che si sono fatti avanti perché con la seconda scossa, quella di ottobre, hanno perso anche quello che avevano salvato i produttori di prodotti gastronomici, abbiamo avuto questa idea di invitare gratuitamente i produttori locali di Arquata alla nostra manifestazione per queste due domeniche e speriamo che il nostro contributo, piccolo che sia per i produttori, però possa essere simbolicamente e anche psicologicamente un aiuto alla rinascita. I punti cardine della manifestazione che il 20 e il 27 novembre occuperà gli spazi del COD ma non mancheranno, sono due giornate da bere tutto d'un fiato, anzi da degustare perché oltre che ai prodotti e alle eccellenze agroalimentari tanti sono gli appuntamenti come l'oro delle marche, con l'associazione Olea eventi e mostre come quella fotografica, proprio su cosa è accaduto tra i vicoli di Arquata del Tronto il 24 di agosto. Abbiamo voluto veramente contribuire in maniera massiccia a dare una mano agli amici di Arquata del Tronto e lo dico per prima, almeno la gente lo sa, i visitatori potranno venire a degustare le lasagne che verranno cucinate dal ristorante Montecucco di San Giorgio per raccogliere fondi per gli amici di Arquata del Tronto in generale sarà la mostra al mercato dei prodotti dove comunque anche in un'annata come questa troveremo ottimi oli e stravergine di oliva tra tutti gli altri prodotti che sono presenti nella manifestazione dai salumi, ai formaggi, al miele, alle verdure del territorio, la frutta e le verdure del territorio quindi sarà come il solito un ambiente dove le persone, i visitatori che verranno potranno sbizzarrirsi nelle tre ore di iniziativa e fare i loro acquisti per la propria famiglia.